Bentornati o benvenuti nella nostra tempo capsula. Quest'oggi scandaglieremo l'evoluzione negli anni dei concept di Geridos Aerodactyl. Sicuramente due Pokémon iconici della prima generazione ed entrambi legati, seppur con logiche diverse, alla parola chiave di questo episodio che è scienza. Prima però di scoprire il peculiare processo evolutivo di queste creature, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un mi piace se quantomeno vi ho incuriosito. Detto questo direi di eseguire il primo salto nel passato con il primo Pokémon di oggi, ossia Geridos. In prima generazione il concept del Pokémon atroce è estremamente banale da un lato ma anche molto diretto. Geridos è un Pokémon feroce e brutale in grado di annichilire intere città a proprio piacimento. La descrizione inglese di Pokémon giallo fa addirittura riferimenti a tempi antichi in cui avvennero distruzioni pressoché totali di insediamenti umani per mano di questa creatura. È però evidente che questa breve descrizione di Geridos non tiene conto del rapporto che quest'ultimo intrattiene con Magikarp la propria pre-evoluzione. Ed è questo un legame che a mio avviso è imprescindibile per capire i mutamenti che Geridos subirà nel corso degli anni a venire. Fornendo una breve panoramica di questo Pokémon, un tempo discendente di un essere molto più forte dell'attuale, il Pokémon pesce è descritto in prima generazione come una creatura estremamente vulnerabile. E per quanto le statistiche in sé dicano il contrario, il Pokédex lascia anche intendere che all'interno del primo mondo Pokémon, ossia della prima generazione, Magikarp sia di fatto la creatura più debole esistente. Facendo particolare riferimento, molto probabilmente, alla sua mossa al tempo peculiare, ossia Splash, che di base non fa nulla. Ora sul fatto che anticamente si dica che questo Pokémon fosse più forte, c'è poco da dire, anche perché essere più forte di Magikarp vuol dire tutto e vuol dire nulla. Ciò nonostante, più avanti nel video, avremo degli elementi quantomeno utili per abbozzare una teoria riguardo alla questione. Ciò che però attualmente mi interessa è mettere in luce il fatto che in prima generazione, il passaggio dalla creatura più debole del gioco ad una delle più forti, ed un passaggio immediato che non coinvolge in alcun modo una forma evolutiva intermedia, possiede delle connotazioni fortemente magiche. Non solo per il nome Magikarp, che richiama direttamente la magia in sé, ma anche per la fonte da cui trae ispirazione questa linea evolutiva. Geridos e Magikarp, come forse saprete, sono ispirati ad un'antica leggenda cinese, secondo cui una carpa attraversata una cascata sarebbe stata in grado di divenire un drago. A significare che anche il debole, affrontando enormi ostacoli, è in grado di ambire alla forza. Questo racconto è particolarmente ricalcato da Magikarp stesso in Pokémon Snap, dove si dovrà fare in modo che il Pokémon attraversi una cascata per far apparire Geridos nel gioco. Ora, chiaramente per Magikarp l'ostacolo della cascata è metaforico, di base gli ostacoli effettivi sono le lotte che dovrà intraprendere un Pokémon così vulnerabile. Ma il punto è che in prima generazione non c'è alcun tipo di spiegazione scientifica riguardo alla sua evoluzione, e il processo è totalmente relegato alla sfera della mitologia. È però già dalla prima generazione che le cose iniziano a prendere una piega molto particolare. Qui non faremo riferimento al Pokédex, ma alla trama di Pokémon oro e argento e cristallo. Come è noto, infatti, al Lago Dira ci imbatteremo in un Geridos Shiny, la cui colorazione ricalca il pattern presentato da un Magikarp comune. Ora, è chiaro che Geridos Shiny sia frutto dell'evoluzione di un Magikarp Shiny, ma ciò non toglie che le peculiari tonalità del Geridos Shiny siano un simbolo. Quel Geridos, infatti, come verosimilmente tanti altri, è frutto di un'evoluzione forzata da parte del Team Rocket nei confronti di un Magikarp, avvenuta mediante l'utilizzo da parte dei primi di onde elettromagnetiche che hanno fatto sì che si provocasse una mutazione anomala nel Pokémon, causandone in questo modo un'evoluzione artificiosa. A questo punto si spiega il significato dei colori di Geridos Shiny. In quel contesto voleva lasciare intendere che un Magikarp che si sviluppa troppo presto è un Magikarp che mantiene addirittura i suoi colori originari. Tenete per ora tutta questa questione da parte, perché più avanti, nello specifico in terza generazione, il tutto acquisirà un retrogusto molto più amaro. Prima di procedere non occorre dimenticarci delle già citate capacità distruttive di Geridos che in seconda generazione, per la prima volta, si associano al tema della guerra. Il Pokédex di Pokémon Oro ci informa infatti che anticamente, durante i conflitti umani, Geridos appariva di punto in bianco seminando attorno a sé una distruzione priva di raziocinio. Il fatto estremamente curioso e per certi versi ancora implicito di questa descrizione è che Geridos di fatto non pare schierarsi nel conflitto. In Pokémon Argento Geridos non si placa fino a quando non ha demolito ogni cosa e Pokémon Oro e Cristallo con parole diverse gli fanno eco. Le descrizioni di seconda generazione lasciano allora passare l'idea di una creatura quasi evocata per magia dalla guerra, in linea con l'accezione mitologica del Pokémon che avevamo già visto in prima generazione. Geridos pare dunque essere attirato in quest'ottica dalla guerra in sé e si comporta come una calamità che si abbatte sugli umani malvagi. Un topos classico della mitologia, nella quale i maremoti, le tempeste e le malattie spesso si abbattevano a causa dell'ira degli dèi. Vedremo poi come questa visione del Pokémon sboccerà più in là nel tempo. Infine, la seconda generazione ci lascia con un dettaglio interessante. Si tratta di quello proposto dalla descrizione inglese di Pokémon Cristallo, la quale sostiene che Geridos appaia durante i conflitti mondiali. Forse qui azzarderei a dire si è peccato di esagerazione, dato che in molte altre descrizioni del Pokédex veniamo a conoscenza del fatto che l'ira di Geridos si abbatte su realtà addirittura locali. Detto questo, attualmente noi stiamo ragionando su due filoni di sviluppo del Pokémon. La questione dell'evoluzione da Magikarp a Geridos è il rapporto che quest'ultimo ha con la società umana, e dunque la percezione che quest'ultima ha della sua violenza. Su questo secondo punto, la terza generazione non aggiunge nulla di che e andando a rafforzare semplicemente ciò che avevamo già visto con Pokémon oro, argento e cristallo. Pokémon Zaffiro inserisce il dettaglio secondo cui alcune testimonianze narrano di sfuriate di Geridos durate addirittura un mese intero, ma parliamo pur sempre di orpelli, di contorno ad un nucleo di concept che era già ben sviluppato. Ciò che invece è tutto fuorché elemento di contorno è ciò che Pokémon Rubino sostiene in riguardo al passaggio evolutivo da Magikarp a Geridos. Secondo il Pokédex di quest'ultimo, quando Magikarp si evolve in Geridos, le sue cellule cerebrali subiscono una mutazione strutturale, dovuta alla natura selvaggia e violenta del Pokémon. Ora, la descrizione italiana è chiaramente posta in maniera errata da un punto di vista meramente logico. È ovvio che non sia la natura di Geridos la causa delle mutazioni strutturali delle cellule di Magikarp, perché quando quest'ultima avviene, il Pokémon è ancora un Magikarp. Semmai alla mutazione delle cellule cerebrali del Pokémon ammonte rispetto alla sua evoluzione e dunque alla natura violenta di Geridos. E infatti la descrizione inglese in merito è molto meno ambigua. Eppure, al di là di certe riflessioni, a dirla tutta a fini a se stesse, questa affermazione dovrebbe farci riflettere. Soprattutto dovrebbe riportarci al Lago Dira. Seguitemi un attimo. In seconda generazione sappiamo che Magikarp viene forzato ad evolversi in Geridos al Lago Dira mediante l'utilizzo di onde cerebrali che in lui causano una mutazione. Ma noi adesso sappiamo che l'evoluzione avviene al mutare delle cellule cerebrali di Magikarp. Questo ci porta a concludere che ciò che Team Rocket fa alla Lago Dira è semplicemente indurre prematuramente un processo in Magikarp naturale che equivale da un certo punto di vista alla corruzione delle sue cellule cerebrali. Ora è vero che l'evoluzione Magikarp-Geridos è un'evoluzione naturale e non dovrebbe da questo punto di vista intuitivamente rappresentare anomalie, ma è anche vero che un'altra evoluzione naturale è quella da Paras a Parasect ed è comunque orribile. Parliamo in questo caso di un parassita che assume il controllo di un cadavere. Voglio dire, nel mondo Pokémon evoluzioni terribili frutto di mutazioni quasi casuali da un certo punto di vista esistono. Dove voglio arrivare con questo discorso? Ancora oggi nella comunità scientifica è acceso un dibattito su quanto le onde elettromagnetiche possano influire per lo sviluppo di un tumore al cervello. È proprio qui che volevo arrivare. Se i nostri ragionamenti sono infatti corretti uno dei Pokémon più iconici e da un certo punto di vista più amati del brand Pokémon ossia Magikarp soffre in realtà di una malattia congenita talmente invasiva da assumere le sembianze di una creatura mostruosa quale è Geridos. E così in tre generazioni Magikarp e Geridos passano dalla magia alla scienza e lo fanno come una qualsiasi altra calamità. Un tempo si credeva che i terremoti fossero opera di divinità infuriate con le società umane. Così come Geridos dalle civiltà antiche del mondo Pokémon è visto come una creatura la cui ferocia si abbatte sugli uomini malvagi sulle civiltà malvagie. Per entrambi però la spiegazione è molto più razionale più scientifica più fredda e sotto un certo punto di vista più disumana e disumanizzante. Non c'è alcuna logica divina nell'azione di Geridos e anzi forse non c'è alcuna logica nell'azione di questo Pokémon ma come potevano gli antichi sapere dell'esistenza di cellule cerebrali corrotte e verosimilmente nemmeno sapevano cosa fosse una cellula. Ora tra la quarta e la sesta generazione non viene aggiunto come al solito niente di nuovo ed è ancora una volta la regione di Alola ad aggiungere dettagli interessanti e succosi. La settima generazione infatti mostra la sfaccatura tra mitologia e scienza in maniera ancora più lampante se possibile. Geridos diventa dio della distruzione i luoghi in cui egli appare sono destinati fatalmente alla rovina. Il Pokémon stesso si infuria con gli abitanti di un villaggio e mette tutto a ferro e fuoco riprendendo un dettaglio già citato in Pokémon Perla ma in realtà queste tre descrizioni sono racconti di mitologia sono tentativi di spiegarsi le azioni di una creatura così violenta che non hanno nulla di scientifico perché niente di scientifico al tempo vi era e Pokémon Ultraluna arriva a dire come stiano davvero le cose. La violenza non è indotta in Geridos dai comportamenti umani ma dalla mutazione delle cellule cerebrali del Pokémon di fatto paragonabile ad una reale malattia organica. E allora vi avevo promesso ad inizio video che avrei tentato di abbozzare una teoria riguardo all'antichissimo discendente di Magikarp. Alla luce delle scoperte scientifiche riguardanti Geridos credo che sia legittimo perlomeno ipotizzare che se l'evoluzione modificando le cellule cerebrali di Magikarp acquisisce una potenza smisurata allora l'attuale stato di debolezza di Magikarp sia dovuto ad un altro tipo di mutazione cerebrale un mutamento magari sia evolutivo ma in senso darwiniano compreso nella logica della mutazione della specie che sappiamo essere un elemento perfettamente presente nel mondo Pokémon. Basti pensare banalmente alle forme Allola per le quali si parla comunque di un mutamento ma un mutamento non improvviso e di conseguenza non cancerogeno. E come non citare in conclusione di questa parte di video la mega evoluzione di Geridos di cui ci viene detto sempre in settima generazione? Se in Pokémon Ultraluna l'energia delle evoluzioni aveva indotto in Magikarp un tale cambiamento evolvendosi in Geridos l'energia della mega evoluzione cancella nel Pokémon ogni possibile barlume di raziocinio lasciando la creatura in balea dell'unico istinto di distruzione rimastole. E certo la serie Let's Go tenterà di ridare una speranza a Geridos asserendo che quest'ultimo potrà ascoltare e dunque recuperare una certa dose di razionalità un allenatore del quale il Pokémon si fida veramente. Ma restano pur sempre tutte le descrizioni contemporanee a quest'ultima dalle quali traspare un profilo di Geridos che non riesco a non ricollegare al Super Saiyan leggendario che è Broly in Dragon Ball un essere totalmente incapace di controllare la propria volontà e conseguentemente le proprie azioni dominato unicamente dall'istinto di distruzione. Se per Broly ciò è da ricollegarsi all'odio verso Goku e ad un passato ed un'infanzia tumultuosa Geridos purtroppo deve questa sua condizione alla mutazione del proprio DNA e contro le mutazioni genetiche risulta difficile credere che basti un allenatore in gamba per vincere la scienza. Ho come l'impressione per la prima volta che il concept di Geridos sia aggiunto ad un suo capolinea e che capolinea? È la prima volta a dire il vero che sostengo qualcosa del genere in tempo capsula ma penso che il concept di Geridos possa effettivamente essere congelato. Non vedo di fatto ulteriori sviluppi del Pokémon anche perché già in settima generazione non si è fatto altro che specificare e approfondire alcuni aspetti di un concept già perfettamente collaudato. Però chissà magari Game Freak sarà in grado di stupirci con altre chicche del resto l'hanno già fatto. C'è sempre spazio per cambiare le carte in tavola basta una forma regionale basta una nuova forma come la Gigamax o la Mega Evoluzione insomma c'è ancora tanto che si potrebbe dire e che attualmente non sappiamo cosa ma non ci resta che attendere. Chi invece forse meriterebbe un po' più di approfondimento riguardo ad un recente cambiamento è forse il secondo Pokémon che quest'oggi andrà a viaggiare nel tempo ossia Aerodactyl già dalla prima generazione il focus è ben centrato Aerodactyl è un feroce Pokémon primitivo rianimato grazie al DNA contenuto all'interno dell'Ambra antica intanto mettiamo a nudo subito un imbarazzante strafalcione della traduzione in italiano che lascia intendere che Aerodactyl sia stato rigenerato dal DNA dell'Ambra che è composto ovviamente da materiale inorganico e di conseguenza non ha un DNA ciò che si intende e la descrizione inglese da questo punto di vista è sicuramente più corretta è che all'interno dell'Ambra di fatto resina fossile sia rimasto conservato integralmente il DNA di un antico Aerodactyl con una citazione indirizzata palesemente a Jurassic Park e in particolar modo al primo Jurassic Park all'interno del quale i dinosauri vengono ricreati esattamente allo stesso modo curiosamente però almeno per ora i dinosauri non vengono in alcun modo citati nelle descrizioni Pokédex di Aerodactyl che si limitano a darne le descrizioni che abbiamo precedentemente fornito l'unica opera a citare i dinosauri è un'opera che già conosciamo su Tempo Capsula per avere in un qualche modo anticipato i tempi sto parlando di Pokémon Stadium questa cosa di non citare i dinosauri subito in prima generazione per Aerodactyl potrebbe sembrare un qualcosa di contorno ma a mio avviso presenta anche degli spunti molto interessanti se infatti la seconda generazione non aggiunge di fatto nulla al concept di Aerodactyl se non per delle descrizioni di contorno che ne determinano meglio il comportamento come i versi acuti e le ali spiegate in volo è invece la terza generazione a riprendere il sasso già lanciato da Pokémon Stadium anni prima affermando in Pokémon Rubino e Zaffiro che Aerodactyl risale all'epoca dei dinosauri la cosa è curiosa per un motivo particolare sappiamo e su questo canale ne abbiamo già parlato che a dispetto di un periodo iniziale nel tempo The Pokémon Company e dunque Game Freak ha cercato sempre più di distanziare il suo mondo dal mondo reale e conseguentemente ha tagliato ogni riferimento a luoghi geografici del nostro mondo e parallelamente agli animali per fare un esempio particolarmente illuminante in prima generazione di Ligitank si dice che la sua lingua può estendersi come quella di un camaleonte e ad eccezione del remake di Pokémon Verde Pokémon Verde Foglie e Rosso Fuoco questo dettaglio scompare per sempre dalle descrizioni del Pokémon e la motivazione è condivisibilissima nel momento in cui in un mondo si sostituiscono di fatto gli animali con i Pokémon e dunque citare i primi sarebbe un controsenso eppure ciò nonostante con Aerodactyl avviene l'opposto se in prima e in seconda generazione il collegamento con i dinosauri pur evidente rimaneva implicito e relegato alla sfera del citazionismo in terza generazione queste creature ossia i dinosauri vengono integrate nel mondo Pokémon con delle descrizioni che li citano in maniera fortemente controcorrente rispetto alla tendenza tanto che addirittura in settima generazione l'elemento rimarrà presente dopo il canonico vuoto cosmico dalla quarta alla sesta generazione che pur sempre mantiene in auge la tematica dei dinosauri Pokémon sole e luna non solo continuano il trend atipico dedicato ai dinosauri ma descrizione dopo descrizione aggiungono dettagli che fanno parte della nostra cultura dei dinosauri secondo Pokémon luna nel mondo Pokémon Aerodactyl si è estinto a causa di un meteorite o almeno così dicono alcune teorie il che è perfettamente analogo a ciò che comunemente si dice nel nostro di mondo riguardo ai dinosauri Pokémon Ultrasole afferma che a causa della sua spropositata violenza Aerodactyl una volta rianimato ammietuto delle vittime forse riferendosi al film Jurassic World continuazione del trend di Jurassic Park uscito nel 2015 all'interno del quale effettivamente gli pterodattili sono stati causa di alcuni decessi infine Pokémon Ultraluna cita le difficoltà che Aerodactyl ha a muoversi sulla terra ferma un problema che è condiviso con l'opterodattilo che analogamente al Pokémon presenta delle ali particolarmente ingombranti ora al di là di questi aspetti la domanda è la seguente posto che nel mondo Pokémon fino alla settima generazione e dunque fino all'epoca recentissima si è voluto mantenere l'elemento dei dinosauri nel mondo Pokémon questi dinosauri chi sono? non parliamo ovviamente dei nostri dinosauri perché gli animali sono stati effettivamente eliminati dal mondo Pokémon potremmo parlare semmai di alcuni Pokémon estinti che analogamente a ciò che avviene nel nostro mondo assumono il nome di dinosauri e benché tale sostantivo appaia solo nella descrizione di Aerodactyl in realtà non c'è difficile identificare gli altri dinosauri facendo leva su quelli che sono i dinosauri del nostro mondo ragionando dunque per analogia insieme ad Aerodactyl dunque di questa categoria devono fare parte anche Tyrant Tyrantrum Amaura Aurorus e il Pokémon a cui appartiene il Dracofossile il quale è ispirato palesemente a uno Stegosauro peraltro se il nostro ragionamento fosse corretto avremmo anche una data in cui tutte queste creature avrebbero avuto vita facile sul pianeta ossia i 100 milioni di anni fa a cui risale il fossile di Tyrant una data che nel nostro mondo corrisponde a metà del Cretaceo era al termine della quale i dinosauri si estinsero completamente certo fino ad ora mi farete notare più che parlare dell'evoluzione del concept di Aerodactyl abbiamo parlato dell'evoluzione del concept dei dinosauri in Pokémon e di fatto fino alla settima generazione un mutamento di Aerodactyl in sé non è presente ma io credo che a volte la grandezza di un cambiamento stia anche nella staticità che lo precede e così la mega evoluzione di Aerodactyl porta con sé un plot twist che a mio avviso è estasiante Pokémon Ultraluna afferma che il potere della mega evoluzione ha risvegliato in Aerodactyl dei geni latenti rigenerando anche le pietre che un tempo ricoprivano il suo corpo Pokémon Sole da questo punto di vista è più diretto Mega Aerodactyl è secondo alcune teorie la reale sembianza di Aerodactyl nella sua epoca come pressoché ogni Pokémon mega evoluto il fenomeno della mega evoluzione ha causato un aumento della ferocia nel Pokémon ma di fronte al cambiamento che abbiamo evidenziato poco fa ciò a mio avviso non ha praticamente rilevanza in una generazione più nello specifico in una manciata di caratteri è stato smontato un dogma ed è stato ribadito un concetto già espresso con Tyrantrum viene intanto meno l'idea secondo cui il tipo roccia dei Pokémon fossili è dovuto al loro effettivo provenire da fossili dato che se le rocce coprivano Aerodactyl nella sua epoca vuol dire che lo facevano prima di essere un fossile e dunque il Pokémon già verosimilmente quando era in vita possedeva il tipo roccia mentre dall'altro lato indirettamente grazie alla mega evoluzione di Aerodactyl si fa strada un concept nuovo un concept che ho deciso di nominare il concept della rigenerazione incompleta Tyrant e Tyrantrum secondo il Pokédex di Pokémon Sole sono infatti delle rigenerazioni incomplete ed un tempo apparivano in maniera completamente diversa rispetto alle loro versioni attuali e dopo 20 anni di brand Pokémon abbiamo scoperto ad Alola che lo stesso destino è stato riservato per l'intramontabile Aerodactyl e che solo il potere della mega evoluzione è stato in grado di riattivare quei geni latenti che la scienza non è stata in grado di rinvenire un potere quello della mega evoluzione oltre alle possibilità umane che non hanno potuto fare altro se non generare esseri incompleti ed imperfetti e allora in conclusione non dovrebbero più stupirci Dracovish Dracozolt Arctovish e Arctozolt dei fossili che questa volta presentano degli errori di rigenerazione palesi evidenti e voluti ed è affascinante tutto ciò è affascinante come Pokémon sia nato e lo sappiamo in una regione che avrebbe dovuto fare della scienza il suo nemico principale legandosi di fatto come un universo in maniera molto stretta ad essa e che tuttavia nonostante il naufragio di quell'idea originaria nonostante rassopirsi di quel progetto in fase di sviluppo il rapporto tra il videogioco e la scienza si è proseguito tra le righe e nel proseguire si sia evoluto esattamente come evolversi nel tempo sono i Pokémon che qui trattiamo a tempo capsula addirittura quella scienza che in Pokémon rosso e blu scavava e recuperava fossili per riportarli in vita quest'oggi è diventata anch'essa fossile un fossile rinvenuto tramite il data mining di rom mai uscite al pubblico mining vuol dire scavare è tremendamente ironico tutto ciò eppure trovare fossili completi è difficile quasi impossibile molto spesso abbiamo tra le mani semplici ossa denti corna piccoli pezzi da inserire in un puzzle che magari potremmo avere già in mente e così se la scienza dei Pokémon di sotterra riporta in vita fossili noi di sotterriamo e riportiamo in vita la scienza dei Pokémon che forse non è mai nata e lo facciamo attraverso le teorie lo facciamo attraverso i sogni lo facciamo attraverso le speculazioni forse anche attraverso le nostre paure e tuttavia nel farlo come la scienza commetteremo errori è inevitabile perché la scienza è sì qualcosa che spiega come nel caso di Gyarados ma è anche qualcosa che nasce cresce si sviluppa e giunge a compimento passando per gli errori più grandi dell'essere umano la scienza è passata per il geocentrismo è passata per il creazionismo è passata per la convinzione che la terra fosse piatta è anche passata la scienza e non la politica dal darwinismo sociale e dal razzismo con tutte le conseguenze che ciò ha portato e così noi nell'indagine di ciò che avrebbe dovuto essere la scienza dei pokemon falliamo e tentenniamo perché così come i geni latenti di Aerodactyl il pensiero di chi quella scienza la ideò non può essere scandagliato per farlo servirebbe un'energia al pari della mega evoluzione un'energia che purtroppo a noi umani non compete e se nel mondo pokemon un tipo di energia simile può esistere nel nostro dovremo per sempre accontentarci delle nostre incertezze bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace un commento un'iscrizione se non siete ancora iscritti mi raccomando passate dai social in particolare da twitch per ricevere contenuti extra e rimanere sempre aggiornati sulle novità del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed detto ciao ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video ciao